Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e anche oggi voglio parlarti dei limiti. In un video di qualche giorno fa ti ho detto come poter fare per superare i tuoi limiti. Adesso invece voglio dirti di come è necessario avere dei limiti e delle regole. Non voglio contraddirmi perché è comunque necessario superare quei limiti che non ti fanno raggiungere il tuo obiettivo. Ma è altrettanto importante mettere dei limiti e delle regole per poter raggiungere il tuo obiettivo. Perché inevitabilmente per raggiungere un obiettivo dobbiamo rinunciare a qualcosa. Perché dobbiamo fare dei compiti, delle azioni per poter raggiungere questo obiettivo. E se facciamo una cosa, alcune volte non possiamo e non dobbiamo fare un'altra. Ad esempio, se io voglio smettere di avere tutti i brufoli nella faccia e me li fa venire il cioccolato, io devo assolutamente smettere di mangiare il cioccolato. Quindi il mio limite, la mia regola, è non mangiare più cioccolato. E la devo rispettare questo, perché sennò non raggiungerò mai il mio obiettivo di smettere di avere i brufoli. Quindi, anche se in un video passato ti ho detto come superare i tuoi limiti, in alcuni casi cerca di metterti dei limiti. Perché se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, necessariamente devi avere dei limiti e delle regole da seguire. E le devi seguire tutti i giorni, perché a nulla ti serve non mangiare cioccolata oggi e domani mangiarne due tavolette. Se decidi di non mangiare più cioccolata, non lo devi fare tutti i giorni. Bene, spero che questo video ti serva per raggiungere i tuoi obiettivi. E se ti è piaciuto, metti un bel mi piace e condividilo, condividilo con i tuoi amici per aiutare anche loro. Sai che la cosa che voglio di più è riuscire ad aiutare più persone possibile a raggiungere i suoi sogni e i suoi obiettivi. Se ancora non l'hai fatto ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube. Se stai vedendo questo video in YouTube, qui nell'angolino puoi vedere la mia faccina dove puoi premere per poterti iscrivere. Se stai vedendo questo video in Facebook, sotto, nei commenti, ti lascio il link. Quindi, agisci e ci vediamo domani. Ciao!